La procura di Larino ha disposto l'autopsia per fare chiarezza sulla morte di un uomo di 64 anni di guardia al fiera raggiunto da un colpo di fucile esploso durante una battuta di caccia al cinghiale. Da una prima ricostruzione, Felice Frat Amico si trovava tra Contrada Camarda e il Vallone quando, per cause da accertare, è rimasto ferito gravemente. Non è ancora chiaro come siano andate le cose, ma di certo un colpo lo ha raggiunto e a nulla sono varsi i soccorsi del 118, chiamati da altri cacciatori che si trovavano in zona nella giornata di sabato. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di guardia al fiera e della compagnia di Larino coordinati dal vice comandante, il sottotenente Romeo Ruggero. Gli accertamenti dei militari dovranno stabilire chi abbia esploso il colpo e in che modo abbia raggiunto il 64enne originario di Castel Mauro, va da tempo residente nel paese sul lago, non si esclude un rimbalzo del proiettile. I carabinieri hanno ascoltato alcune persone presenti in zona per cercare di ricostruire la dinamica. Le indagini sono in corso e non si escludono nuovi sviluppi. Nelle prossime ore, sconcerto a guardia al fiera, dove Felice Frat Amico era molto conosciuto, impegnato anche nel settore del volontariato, come nonno vigile.